Da oggi auto e pedoni potranno utilizzare il sottovia di Parco Scizzo che collega Torre Ammare a Noi Cattaro, un'opera che ha visto la luce dopo un iter di circa tre anni e che riveste un'importanza strategica per il territorio. Lungo circa 700 metri, il sottovia ha consentito di eliminare un passaggio a livello, contribuendo in maniera significativa a migliorare tanto la circolazione stradale quanto la sicurezza dei cittadini. Presenti al taglio del nastro, il sindaco di Bari Antonio De Caro, il primo cittadino di Noi Cattaro, Raimondo Innamorato, ed il responsabile della Direzione Operativa Infrastruttura Territoriale Bari di RFI, Giuseppe Macchia. Oggi ne auguriamo un'opera di collegamento tra i comuni di Bari e di Noi Cattaro. Abbiamo soppresso un passaggio a livello sulla linea adriatica, nell'ambito di una strategia che il rete ferroviaria italiana sta portando avanti di soppressione di passaggio a livello al fine di riconnettere i luoghi e le città in maniera più sicura e agevole. A breve inizieranno anche i lavori della variante di Santo Spirito. Adesso procederemo con i lavori a Santo Spirito per collegare le due zone di Santo Spirito e Palese. Sono soltanto alcuni sottopassi e sovrappassi e sono anche temporanei, perché lì Ferrovie dello Stato ha previsto la variante di Palese e Santo Spirito, che è stata finanziata, approvata e spero possano iniziare i lavori in contemporanea ai sottopassi, che poi saranno eliminati quando avremo l'asse ferroviario nuovo in variante a quello esistente.